E' stato condannato a 10 anni il 28enne capoverdiano Edson Tavares, a questo punto condannato in primo grado per l'aggressione con acida ai danni della riminese Jessica Notaro. Aggressione avvenuta il 10 gennaio scorso a Rimini. Prevista anche l'espulsione dal paese, l'intredizione perpetua dai pubblici uffici e il risarcimento da 250 mila euro nei confronti della vittima. Mentre non è previsto alcun risarcimento nei confronti del comune di Rimini e della regione Emilia Romagna che si erano costituiti parte civile. La difesa di Tavares fa sapere che ricorrerà in appello. A prescindere dall'entità di pena che è leggermente inferiore a quella richiesta dal pubblico ministero, da parte della difesa di Jessica Notaro debbo esprimere una soddisfazione processuale. Qui è stato riconosciuto un soggetto che ha sempre negato il fatto come responsabile invece di questo fatto atroce e questo è fondamentale per noi. Come vi ha lasciato la lettura di questa sentenza? Una sentenza severa che ovviamente accettiamo ma che non condividiamo e che ci rafforza nel nostro intento di provare l'innocenza del nostro assistito, così come lui l'ha sempre sostenuta. Continuiamo a ripetere che gli elementi probatori posti a fondamento di questa sentenza secondo noi sono inconsistenti, per cui preannunciamo naturalmente un ricorso in appello fiduciosi di poter in secondo grado avere una pronuncia di assoluzione.